E questi sono 5 trucchi per crescere in altezza, comunque anche in questo video avrete la possibilità di vincere una fantastica mazzocard da 100€ Per vincere dovete lasciare un like e condividere questo video, iscrivervi al canale e commentare con partecipo In ogni caso tutte le regole in descrizione, adesso direi di incominciare subito con il video Uno dei metodi usati per aumentare l'altezza è quello di fare molto stretching Un esercizio che probabilmente vi farà guadagnare qualche centimetro visto che vi farà avere un giusto riallenamento della colonna vertebrale e l'acquisizione di una postura corretta è questo Prima di tutto c'è bisogno di una barra di trazione, poi dovrete rimanere più volte appesi sulla barra per un paio di minuti con riposi alternati da 30 secondi Se no come alternativa esiste anche la panca di inversione che serve sempre a farvi assumere una giusta postura facendovi guadagnare qualche centimetro in più Un altro metodo per crescere soprattutto se sia in fase adolescenziale è quello di dormire molto Infatti è stato dimostrato che dormire un sufficiente numero di ore è importante per simulare la produzione di ormone della crescita Diciamo che tra i vari metodi questo è il mio preferito e voi? Fatemi sapere dopo aver visto il video quale metodo vorreste provare Un altro metodo per guadagnare centimetri è quello di stendere la colonna vertebrale attraverso un esercizio che adesso vi faccio mostrerò molto utile per chi soffre di scoliosi L'esercizio consiste nel stare sulle punte dei piedi con il busto dritto e stendere le mani verso l'alto per un paio di minuti Vi consiglio di fare questo esercizio vicino ad un muro per stabilizzarvi meglio In ogni caso ripetendo questo esercizio più volte riuscirete a guadagnare qualche centimetro in più grazie al raddrizzamento della colonna vertebrale Questo metodo è invece adatto a tutti quelli pigri che preferiscono evitare di fare esercizi fisici Infatti il lato altezza è determinata sia da effetti genetici che ambientali E un altro metodo per aumentare di statura in fase di sviluppo è proprio quello di seguire una sana dieta ricca di carboidrati accompagnato ovviamente con frutta e verdura Inoltre un altro fattore che potrebbe aiutarvi è quello di bere molto, almeno 2 litri di acqua al giorno Mantenere una buona postura è molto importante sia per la nostra salute ma sia se vogliamo guadagnare qualche centimetro in più Anche se non stai effettivamente crescendo di altezza un buon portamento ti farà sembrare più alto Per assumere una buona postura bisogna tenere la schiena al mento dritti Una volta fatto ciò guadagnerete all'incirca 2-3 centimetri in più Inoltre indossare scarpe alte tipo quelle da basket potrebbe farvi guadagnare altri preziosi centimetri Questo video è finito, comunque se volete essere salutati alla fine del prossimo video Lasciate un like, iscrivetevi al canale e commentate qui sotto con la vostra altezza Nella fine del prossimo video saluterò 3 di voi I fortunati di oggi che saluto sono SuperSans, Cosman Diego e Greta Mitica Vi ricordo di seguirmi anche su Instagram, trovate il link nella descrizione Ciao!